Io penso che ci sia bisogno di un impegno molto forte, non solo a livello nazionale ma a livello internazionale, perché la ragione di quanto sta accadendo dipende da una maggiore instabilità nel Mediterraneo. Più c'è instabilità politica nei paesi del Mediterraneo e più aumentano i flussi verso il nostro paese. Quindi c'è bisogno di un nuovo impegno, in modo particolare in sede europea. Io in queste ore ho appena scritto una lettera agli altri capigruppo dei paesi europei esposti a questo fenomeno perché si prenda un'iniziativa molto forte sul piano internazionale. Non è un tema che noi possiamo risolvere da soli e chiediamo un sostegno forte a livello europeo.